Questa fase di dare un messaggio all'esterno. Nella riunione di ieri, per arrivare a ieri, 15 ottobre, approvando il verbale della seduta del primo ottobre, si sarebbe, come dire, poi dopo, per questioni di cortesia, avremmo dovuto fare entrare il nuovo sovrintendente per la presentazione, l'illustrazione di alcune idee progettuali da mettere a correre per il teatro, e nell'ambito dei profili della squadra, coinvolgendo anche professionalità già presenti all'interno del teatro, profilo della squadra dove riempire quei vuoti nell'organico, soprattutto nelle figure apicari che oggi mancano. Dopodiché, la nomina è perfetta, perché basterebbe, come si fa altre volte, mandare una nota accetto, per quanto riguarda l'accettazione. Era semplicemente una questione di stile, ma non solo la delibera di nomine efficace. La verità è che l'approvazione dei verbali, quando io sono arrivato appena eletto, c'erano verbali da approvare di sei mesi, otto mesi, addirittura un anno precedente rispetto alla riunione del CDA. Noi abbiamo un po' messo in ordine e stiamo andando all'approvazione dei verbali alla seduta successiva, salvo ovviamente le modifiche, perché ogni consigliere ha la possibilità, ancora in bossa, nella seduta del CDA, o mandando una nota, di suggerire qual è il modo da poter esplicitare il proprio pensiero, che non può essere la modifica di quello che è un voto o una dichiarazione espressa in CDA, ma è esplicitare meglio il proprio pensiero, come si può fare persino con i nostri verbali del Consiglio Comunale, dove ognuno, se vuole mandare una nota, ha dei tempi in pare di 5-7 giorni per correggere o per modificare.